L'Aromasi Erfei è no Allora, 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 oggi godo come un porco Doppietta di bala, si vola, monza, schiantato La Roma è prima, in questo momento, da sola Che bello, che bello, che bello, che bello Però, però, vedevo di una cosa importantissima Oggi vedrete due cose, due cose Allora, vedrete il post partita della Roma Ma non qui, non qui, non qui Vedete la mia felicità, la vedete la mia felicità, la vedete, ok? Sul numero 10, ho caricato il video sul numero 10 Quindi vi lascio il link qua sotto, recuperatevi il mio video Post partita della Roma Sul numero 10, qua sotto Primo link, cliccateci, il mio video è lì In questo video Andremo a parlare dell'Inter Perché dobbiamo parlare di tutte, della Roma, dell'Inter Tra un po', quindi circa a mezzanotte suppongo Su questo canale non parte la feed La feed non parte Mesh Live Reaction della Roma La mia reazione Alla doppietta di Dybala Quindi ragazzi, quindi Se volete, se ci tenete alla mia incolumità mentale E volete condividerla con me Mi sembra il caso di attivare Non la campanella perché tanto non vi parte Ma di mettere la sveglia A mezzanotte esce quel video Intanto la vedete per il post partita Mamma mia che bello ragazzi Mamma mia, mamma mia Mamma mia com'è bello Mamma mia com'è godo No, però concentriamoci un attimo sull'Inter Dai, c'era anche Inter cremonese L'Inter doveva rispondere Soprattutto a una cosa L'Inter doveva rispondere Soprattutto a una cosa ragazzi All'infortunio di Lukaku Ha risposto assolutamente sì È vero che era la cremonese in casa È vero che affrontava Più come la Roma Cremonese e Monza In questa prima parte di campionato Hanno dimostrato di equivalersi Equiva Vabbè, sono uguali praticamente Stanno a far cagare tutti e due Quindi era, diciamo, un gioco da ragazzi per entrambe Però, però Dovevano dimostrarlo tutte e due La Roma doveva dimostrarlo Con il debutto di Dybala L'Inter doveva dimostrarlo Regà, doveva dimostrarlo Senza Lukaku E io, inizialmente, ho iniziato a pensare Eh, cazzo, povera Inter Senza Lukaku Quello e quell'altro Faticherà Poi però mi si è accesa una lampadina E ho detto Ma scusatemi un attimo, no? Ma l'Inter in attacco dall'anno scorso Non ha perso nessuno C'aveva Lautaro C'aveva Correa C'aveva Diego Non aveva Lukaku Ma non ce l'aveva l'anno scorso Se quest'anno non ce l'ha Per un paio di partite Riuscirà a sopravvivere Per un paio di partite Anche Senza Romelu Lukaku Ed effettivamente Ok che era la Cremonese in casa Ok che vanno Pesate le partite Però, comunque Questo avviene E l'Inter la sblocca Con il gol Di Joaquin Joaquin Correa Correa, ragazzi Che segna su Posso dire Posso permettermi di dire Una mezza guaglia Di Radu Ora io non voglio Io Allora adesso è facile Ogni volta È facile trovare La guaglia di Radu Adesso è veramente La cosa più facile del mondo Appena c'è qualcosa che non va La guaglia di Radu Vero Vero Non è una cosa bella da dire Non è una cosa di cui andare Particolarmente fieri Il fatto di doverne parlare sempre Però mi sento anche di dire Che Insomma Raga Sul 1-0 Tiro Da che mondo è mondo Tu non puoi fare una parata Che la palla la lasci davanti a te Cioè Nel senso A parte che il tiro Non era irresistibile Mettiamo anche che lo fosse Ti insegna una scuola calcio A ribattere la palla All'esterno Quindi che tu lasci Il La palla a disposizione Per Correa Che poi fa il gol Del 1-0 E capisci bene amico mio Che gli stai dando Una grossissima mano E quindi Per me lì Radu Un pochino Ci mette il Ci mette il suo Ci fa il suo Poi però Arriva una barellata Arriva una 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 pazzia Di barella Un qualcosa di bellissimo Però prima aspettate Perché su quell'occasione lì Allora Barella Dà il via all'azione E tutto quanto Ma che cazzo ha fatto A cancia A cancia la nogulu Ragazzi Cioè Praticamente Alza la testa Apre il compasso Da questo pallone Fantasmagorico Quello è un pallone Cioè Quello è un pallone Fantasmagorico Punto Da questo pallone Fantasmagorico A barella Che tira una bomba Bellissimo Tra l'altro E l'Inter Raddoppia E il 3-0 Arriva sempre Da barella Però lo fa Lautaro Ecco Io voglio continuare A concentrarmi su questo Ma perché credete Che Allora io A inizio hanno detto questa cosa E molti mi hanno Schernito Ho detto Fate attenzione Perché secondo me Questo sarà l'anno Non di Lukaku Ma di Lautaro Cioè per me Questo sarà l'anno In cui Lautaro Farà il capo cannoniere Farà il capo cannoniere Di vincere il titolo di capo cannoniere Però comunque vada Anche se non dovesse vincerlo Per me questo Sarà l'anno In cui Lautaro farà più gol di Lukaku Perché Lukaku Da quando è tornato Lo vedo Un calciatore Che sta imparando A mettersi più A disposizione Della squadra Quindi per me A differenza Di come invece Eravamo abituati A vedere Prima che Lukaku Andasse al Chelsea Oggi Lukaku Ha sviluppato Delle altre caratteristiche Per quel poco Che l'abbiamo visto Indubbiamente Però per quel poco Che l'abbiamo visto Per quanto mi riguarda Ha sviluppato Delle caratteristiche Che lo portano Ad essere Anche un calciatore D'appoggio Anche un calciatore D'aiuto E per me è una cosa migliore Oggi ad esempio Lukaku non c'era Però intanto Lautaro Continua a segnare E nelle prime uscite Quando Lukaku C'era E Lautaro pure Si Lautaro faceva Segnare Lukaku Ma è capitato anche Che Lukaku Facesse segnare Lautaro Se io oggi vado a prendere La classifica Marcatori Oggi Lautaro Ha fatto più gol di Lukaku Che ne ha fatto uno Si siamo alla quarta giornata Non lo metto in dubbio Però sono cose Che ci tengo A considerare Perché sono ipotesi Che ho Deciso di fare Inizio anno E voglio vedere Se effettivamente Quello che ho detto È la verità O meno Visto che avevate Interisti Tanto criticato Di Marco Per la partita Contro la Lazio Avete visto oggi Di Marco Avete visto oggi Che geometrie Che ti ha disegnato Di Marco Io vi ripeto ragazzi Questo è un giocatore Pazzesco Ecco io Poi recuperatevi il video Su un numero 10 Nel video della Roma Dico chiaramente Io voglio Mi serve un difensore centrale Che sappia giocare a tre Datemi di Marco E andiamo a nozze ragazzi Datemi di Marco E andiamo veramente a nozze Voglio di Marco Cioè è un giocatore clamoroso È un giocatore che sa fare tutto Che gioca esterno Che gioca difensori Braccetto Di sinistra È un centrale mancino E non pensate Che il centrale mancino Non pensate Che il centrale mancino Sia una cosa Che si trova dappertutto Perché non è così Regà Non è così E poi soprattutto Sa impostare Sa creare gioco Cioè È un giocatore completo Io me lo prenderei Anche adesso Ad occhi chiusi È un Inter Che non fa turnover Zero Nonostante tra tre giorni Ha il derby L'unico straccio Di turnover Se così possiamo definirlo È quello di aver fatto giocare Sì è vero Lautaro non gioca Questo sì Davanti giocano Giaco e Correa Però lì c'è un turnover Non due Forse secondo me Perché ha pensato Che una volta che mancava Lukaku Potesse far giocare Entrambi Quella coppia lì Quello secondo me È l'unico straccio di turnover Giaco e Correa Perché Lautaro lo potevi mettere Ma Lukaku no Quindi il turnover è uno Qualcuno dirà Darmian Non lo so Perché su Darmian Pesa anche il fatto Che nelle ultime ore Si sta parlando fortemente Di una grossa possibilità Che Gosens parta E quindi l'Inter per me Sta andando anche Soprattutto verso quella direzione E lì c'è la direzione Di pensare Se questo è sul mercato Allora io al momento Decido di fare altro Poi se dovesse invece Rimanere a giocare per me Allora faccio Non lo so Questa è un'ipotesi Che mi sono costruito Nella mia mente Cercando di capire Perché l'Inter Oggi non abbia fatto giocare Dunfries Questa è l'unica cosa Che mi è venuta in mente A meno che io non lo sappia E Sì Dunfries Gosens Però nel senso Alla fine Alla fine 10 minuti Li ha fatti Quindi Non lo so Non so che dirvi Trovo un po' di spazio An Caslani Forza avrei fatto turn over Facendo giocare titolare Aslani Però comunque Poi magari tu punti Non ne puoi perdere Perché hai perso Tre giorni fa E sei costretto a vincere Quindi anche quello Ha un peso specifico Fatemi sapere la vostra Con un commento qua sotto Iscrivetevi al canale Forza Roma Forza Roma Forza Roma Dai Paolo Recuperatevi quel video E a mezzanotte circa Ci vediamo con la live reaction Bellissima Buon ciao Iscrivetevi al canale E noi come sempre Ci vediamo al prossimo Video Ciao 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 Ciao